Sindacato, imprese ed istituzioni a confronto sul futuro del trasporto pubblico nell'incontro promosso da Will Molise e Will Trasporti. Un'occasione per ribadire il diritto alla mobilità dei molisani, uno degli argini fondamentali anche per l'annosa questione dello spopolamento e fondamento per un rilancio economico non più rinviabile. C'è un gap da recuperare rispetto alle altre regioni. Dal punto di vista ferroviario, su 265 km di ferrovia, solamente 60 sono elettrificati, solo 30 sono a doppio binario. E' una condizione che preclude la possibilità di muoversi per tanti cittadini, quelli che vivono nelle aree più interne della regione, ma anche che non sviluppa un contesto non attrattivo dal punto di vista degli insediamenti produttivi. Vorremmo che comunque da questo incontro venga fuori un nuovo sistema e si possa lanciare una cosa che da anni non viene fatta, attivare un tavolo istituzionale, un tavolo della programmazione con tutti gli attori del settore. Sostenibilità è poi la parola d'ordine di una nuova mobilità che sappia essere ridisegnata sulle reali esigenze di un territorio che ha candidato Termoli, la città che attende la Gigafactory, a diventare capitale italiana della mobilità sostenibile. Così come durante l'incontro ha anche avuto modo di ribadire il senatore molisano Costanzo della Porta. Per quanto il TPL, diciamo in senso stretto, non contribuisca in maniera importante alle emissioni, però è un attore fondamentale proprio per ridisegnare quelle modalità di spostamento che competono con l'auto privata e quindi sottraggono persone dalle auto private verso i trasporti pubblici. Un confronto importantissimo quello promosso dalla UIL anche per Confindustria che sul tavolo ha posto una serie di importanti questioni. Nel PNRR sono stati stanziati circa 120 milioni di euro per velocizzare e elettrificare la linea Termoli Campobasso che attualmente è chiusa per delle frane ed è una cosa importante fare delle progettazioni per cercare di togliere ed eliminare le anse che noi abbiamo su quella linea quindi ridurre i tempi di percorrenza eliminandole.